musica non perché non riuscivo a capire come farlo a partire io non ho sistemato con questa cosa musica 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 dobbiamo aspettare siamo già in live? si sto un minuto e mezzo un attimino che faccio partire un secondino musica musica e aspettiamo musica 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 Grazie a tutti 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 Dimmi tu dove vuoi andare Io ti seguo Aspetta aspetta Allora Così Ben vi Cazzo Andiamo Andiamo Eccomi qua Eccomi qua Scusate ragazzi Piccolo problema tecnico Benvenuti Benvenuti tutti quanti ragazzi Qua appena arriva Appena arriva Appena arriva Partiamo Tony che ha droppato Ma grande 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 Tony Quando ci siamo Quando ci siamo Decladimolo Parti pure Parti pure Parto pure Oh K Faccio partire Guardavo se voleva venire anche Lasagna per quello Sì Sì Benedice anche la casa per Pasqua Giusto Se non benedisco la casa per Pasqua San messi male Intanto 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 Pa 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 Ragazzi Mi tocca arrivare subito Sì Mi hanno portato via Un pezzo di carta Che mi serve Arrivo subito Eccomi qua Scusatemi l'attesa Mi hanno tolto Ma avevamo buttato via Un pezzo di carta Che mi serviva Allora Tu Declad Sei migliorato un po' Eh Non Non c'ho più giocato Però comunque Ho fatto Un game Con 44 kill Sarola Va bene Diciamo che In una barca meno Sulle 20 30 kill Più o più o meno Tranne qualche volta Che impazzisco E comincio a far kill A caso Senza motivo Quindi Buono buono Ma perché io vengo da CSGO Cioè ci ho fatto 700 E passa ore Su CSGO Madonna Io devo Io devo per forza Io devo per forza Abituarmi bene Perché qui Se no Guarda Io non ti prometto niente In questa partita Perché appunto Stando stanco Non so Se vado bene o no Quindi Io gioco Però non so come gioco Adesso arrivo Adesso arrivo E ore In una live Niente drop Mi serve aiuto Mi serve aiuto Tranquillo Tranquillo Bellino Che si droppa Si droppa Bisogna solamente Avere forza E costanza Per non grattarsi La pancia Come si dice Aspetta un attimo Che qua Vai vai tranquillo Vai tranquillo Ah che Che mi ha cambiato Il personaggio Doll Avevo scelto Larciere Qui Uffa Vabbè È sempre meglio Che questa Fino a quando Quando fai live Non lo so Fino entro sera Comunque Comunque Sto Sto in live Fino a sera Sicuramente L'alba dei morti Il nemico avvistato Il nemico avvistato Spike avvistata Che pena Ah Ah dai Grande Dicola Ok Contro il C Io pensavo che Eravamo in riscaldamento No 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 Non eravamo in riscaldamento Ah boh Uno che dormiva Uno che dormiva Addirittura Contro il muro Era appoggiato Contro il muro A fare il sonnellino No 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 Era uno degli avversari Ah 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 perché sto Io sto leggendo anche sul disco Da questa la cosa Ah ok Ah ok 31 70 Ah e vuoi salire? Ah Eh ma dai Ormai non salire più Perché sono già lì Mi sa Sì infatti Questo non è là Vediamo se lì Passa qualcuno Vengo da te No io sono qua Sono in bio Ok Il muro l'hai fatto Ho sentito Qualche passettino Eh vabbè dai Sono lì Dovisti Sto arrivando Allora Fino a quanto fai la live Sarà una cavolata Ma fino a fine live Potrò avere il drop Sì credo di sì Beh Dipende un po' fortuna Dipende un po' fortuna Ragazzi Ciao Scrizzer Ciao a tutti Ehi Ciao Tiamat Benvenuti in live Perché? Mamma mia Ok L'ho detto A 38 Ho settato il volume a 38 Perché mi stavo spaccando i timpani Ciao Blue Dragon Benvenuti in live Adoro le esplosioni Ok Uno che ha Che bella Una pistola Due pistole volanti Qualcuno qua Mollato Che è mollato Non lo so Ci sono due usciti Strano il bug Comunque Che Come Quando escono Ti restano Il pistole All'aria No Sì Ok Ok Ma dai La spike è qua Sì La spike è qua Ma è la nostra? No La loro È la bomba Dobbiamo proteggerla Almeno non la piantano Capito No Infatti stavo pensando Della nostra O la loro La loro Silenzio Ultima pronta Allora ragazzi Tutto a posto Tu Blue Avete già droppato Ti interessa Valorant Grande Decla Arriva Che cazzo è Da dietro Mi sa di sì Mi sa di sì Scaricato Quando finisci Ci sono L'unica È che Non ho il microfono Va bene Tranquillo Tranquillo Caro È dall'altra parte La morte Eh già È dall'altra parte Allora Finalmente Riesco a giocare Tranquillamente Tutto bene Dai Sono appena Rientrato dal lavoro Mamma mia Io oggi Fortunatamente Sono di riposo Infatti Ho streamato Fino alle 6 e mezza Stamattina Lo so Sono pazzo Non lasciamo In via Di fuga Questa qua Ah Due stiamo in alto Sì sì Tranquillo Aspetta Io controllo In fondo Tu controlla La porta di fronte Io controllo Questa qua In parte Ok Nessuno è in B Ma dove sono tutti Esattamente Hanno vistato Qualcuno In C No Non c'è la C Non c'è la C Eccolo lì Sono in B Sono in B Stanno plantando Spike piazzata Sono in A In C No Ma ancora Sono in A Perché allora Mi ha fatto sentire In B Madonna Sono qui 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 E' lo sto Ma è All'altro Lui Mi ha sentito In B Vai 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 Proteggetemi Vai vai Buono Ciao Mago Fleet Benvenuti in Live No Ho sbagliato io Scusatemi Dove stai tu? Ancora qua All'inizio Sì sì Stavo guardando Una cosa Loro due Vanno di là Noi due Andiamo di qua Allora Noi quattro Non ci hanno fatto Nemmeno un graffio Ho sbagliato totalmente Muro alzato Oh a terra Togliati Togliati Che non ho ancora Ben ho capito Come funziona Sto personaggio E immagino Sì mi chiamo sempre Screakers Ok Hai combattuto La mia ultima È pronta Manca un solo nemico Spike avvistata No Ho fatto uno contro tre No A uno A due A tre Vai vedere Nella loro base E probabilmente Uno che sta camperando È andato A FK Sì A FK Infatti Ci devo col coltello Vai Che mancanza di stile Ecco perché siamo una squadra Che stai facendo? Che dico Sto parlando con Beatrizia Ah ok 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 mi stava dicendo Che lei è il match point Match point Tra l'altro come ho detto Madonna mia Match point Ok Che bordello che hanno fatto Quanti sgamo Si sente un vum vum Si ma davvero Le spike è lì Venga arrivo subito Andiamo un po' adesso Aspettate se è passato tu Grande La stavo facendo fuori io Una è HK Ne manca una Chissà Sto andando in base Sto guardando Stai attento solo 30 secondi rimasti Si hanno lì la Hanno lì la spike Comunque Esatto Tranquillo Infatti Uno è FK Ancora Ok E l'altro Che cacchi di fino a fatto 10 secondi rimasti Manca un solo nemico Silenzio ora Nemico assalto Vai grande Scri Metto su Uno shopping C'è uno Gino E ci sono Va bene Tranquillo Caro Aspetta Tu sei ancora All'inizio Cavolo Cioè io stavo Arrivando Stavo arrivando Stavo seguendo La massa Aspetta Teniamoli Alla larga Tenvito Per Barriera creata Passate di qua Se ne avete Un Ok Lì sono lì Perché li ho visti Si sono qua Sono qua Solo che l'Archer Adesso si farà ammazzare Ok Il mio robottino Ne ha visto Tipo uno Io sono il cacciatore Centro Strano dai Nemico avvistato Nemico avvistato Che è Ah No Non è Anche qua Ok Perfetto Va Tutti Tutti Ma Tutti A FK Qua Va bene Ok Grazie per la vittoria Facilitata E' uno spasso Sponto il C Aspetta che Aggiungi Ecco qua Aggiungi un amico Vai Perfetto Il gate Mi Mi Spuccia casa Oddio Nemico avvistato Che ti passa per la testa Eccolo E' da quella parte Tranquilo ci penso io Tu controlli sempre quella porta Oh E' entrato dentro il TP So esattamente dove siete Ovviamente deve andare a prendere me proprio No Ah ma prendete Sa dove sei Probabile Infatti Sezione rilevata Vaffangulo Ce n'è uno che qua Che continua a camperare Ah l'hai già ammazzato te Ok Ah no L'ho ucciso Aspetta Manca un solo nemico Finestra Grande Ucciso Grande Grande Sono già 13 kg E' un altro che Un altro che se n'è andato Guardalo qua Un altro Un altro che se n'è andato E' Siamo in quattro ragazzi Andiamo Beh anche loro sono in quattro Dai Beh C'è Sbagliato Vaffarti Stiamo arrivando Io mi sto passando da dietro Ok Io sono dentro là Vaffarti Vabbè A me manca il lato Giorno Ma Che è successo? Non mi ha cagato Manco di striscio Quell'altro Manca un solo nemico Grande C'è quell'altro Era di schiena Ma che arma stai usando te? Il Il guardian Il guardian? Sì Lo prendo fuori anch'io adesso Non sono ancora morto Nell'inizio della partita Muro alzato Nemico avvistato Ok Controllate lì La porta lì Non sono la stata controllando Ma dai Sta arrivando Sta arrivando Come cazzo ha fatto? Cioè Come apparselo Già morto Eh Ti ha beccato in testa Sì ma Cazzo Non ho avuto neanche tempo Di sparare Praticamente Grande Decla Beh Michele si vedeva La gambettina Manca un solo nemico Che è là dentro? Gli ho fatto un headshot Da dietro una parete È stato fantastico Tipo Gli ho sparato Alla scatola E l'avevo tutta in testa Mamma mia Non c'è a farlo apposta Allora mago Tutto a posto? Tony Che fine hai fatto? C'è qualcosa che non va Non me la spara Ultima pronta Nemico avvistato Trovati Manca un solo nemico E qua in A È in A Sì Se non è in A È più o meno lì Sto andando in B adesso Sto guardando Sono qui Sono qui Sto Ammirando Il menu Ma lol Ma davvero Buono Ancora due Ultimo round Prima del cambio Non possiamo tenerci niente Dove Spendiamo tutto Se volete qualcosa Io ho 11.000 in più Vabbè Io ho 9.400 Ciao Merlin Benvenuti in live Stai di lì Mi ha ucciso Però ha pochissima vita C'è tipo 20 di vita Tutto bene Tutto bene Tu Mary Tutto bene Da posto Spike piazzata Turchi E basta Sparà Ma dai La cosa divertente è che Non sa neanche sparare con sta roba qua Guarda Guarda solo dove spara Sì 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 Scrivi il gioco dopo Rimango in live Mentre sistemo delle cose Va bene Tranquillo Tony Basta così Yep Mi rilasso E vedo la live Twitch Bene Bene Eh vabbè dai Una gliel'abbiamo regalata Cambio posizioni Ah Una gliel'abbiamo regalata Dai Vabbè una sì Dai Un po' mi dispiaggiava Ebbè Abbiamo ancora due Dobbiamo fare con le S2 Cazzo è vero Non avevo i soldi Per prendermi le Le skill Vaffanculo Sì è più o meno simile a Paladin Però è più È più tattico questo Andiamo avanti così Questo è un pochino più tattico Devi Devi agire un po' più di astuzia Sul bersaglio Ok Tutti qua Tutti qua Entrata Non ci provare Non ci provare Manca un solo nemico Nenico Sto là sopra cazzo Vai Vai Eccolo Eccolo Eccoti qua A posto Sì di tanto anche Ciao 12 a 1 Wow Ho già fatto 19 kill Come 19 19 si Ma io faccio schifo eh Però mi piace giocare Vabbè non c'è problema Sto tranquillo Tanto ha ancora una beta qua No perché Oddio Andiamo È bello la sfera eh Tutti qui Sono tutti qui Non ho cariche Cazzo sono tutti Boh Ma vai dietro di noi Ma dietro di noi Non ho visto nessuno Cazzo Eccoli là Sono arrivati tutti Qui No adesso Io me ne vado Sto arrivando tutti Da questa porticina Ma dai Grande Due in colpo Vabbè Vabbè Conta Conta Betrice Che ho fatto anche 44 kill Una volta Come scusa Sì Ho fatto 44 kill Sì ma Dekla Tu sei Tu non so come fai Cavolo Guarda Infliggi danni Giornaliera conclusa Sì Allora Collezione Vi dico i miei score Così Eh dai Io ho fatto Ho fatto cagare Allora Partendo da Da quella più bassa 29 17 41 15 25 14 Ma dove Che le vedi tu Su carriera Ma su agenti Sì No su carriera Carriera Sì sì Trovata Trovata L'unica in cui ho fatto schifo Sono state Tre partite In cui ho fatto 5 15 Ma perché gli altri Erano veramente Strapotenti E una 7 6 Però Me la pavo Ah Beh io sono l'ostacolo Alla vostra vincita E sappiatelo Ma stai tranquilla Vieni Vieni Partiamo pure Scri Eh tu Entri un attimo Graziano Dimmi Entra pure Entro pure? Va buono Entra Devi entrare Non in partita Non in partita Cosa? In lobby Accetta la richiesta Ah scusami Scusami Non avevo No no Sennò partiti Sennò di noi Ok Dovrei essere entrato Sì Ok Presenta chi sta Contente in team Allora C'è Declared Ciao Sono io E lasagna Aspetta No Lei No Tu non sei lasagna mia Tu sei Beatrice Beatrice Va bene Mi andare Vabbè Beatrice Beatrice Sorry Pardon Invita Eccola qua Entra Ah ok Ok Ciao ragazzi Vi saluta ragazzi Ciao bro Ciao bro E' una sister Comunque E' una married Eh no Sono quello in chat Aspetta Streamano anche loro Allora Declas Sì Tu Beatrice Stai streamando Sì Yeah No 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 Io sono una plebea Ah ok Io gioco Di solito Giochi horror Quando streamo Quindi Mi vedrete O urlare a caso O fare commenti sarcastici Quindi Tipo Oh mio dio Come quella volta Che Alien Mi cade davanti Mamma mia Quella volta Ti è arrivato Un cucolone Cavolino Che non so Mi sa che non hai più aperto La vie per tre giorni Ho dormito Con gli occhi aperti Quella notte Mamma mia No cazzo Ma la vie L'hai finita Alla fine La serie Non ancora Però ultimamente Stando bianco E non ho potuto farla Però Siamo alla fine Cavolo dai che voglio vedere la fine Cavolo Siamo alla fine Abbiamo due molotov E due alien davanti Vediamo che cazzo Madonna No no voglio vedermi la fine Voglio vedermi la fine Eh si si Startate pure ragazzi Che almeno no Ma chi è il capo? Il Sono io Non so Ah no Non lo so Dovrei essere io il capo Perché ho il simbolino in mezzo Dove c'è il nome Eh beh si Una volta finito Alien Stavo pensando di All Little Nightmares Che mi piace un casino Come gioco O altrimenti portavo Una roba un po' più lunga Che cioè Skyrim Adesso non so Skyrim bello Io l'ho appena L'ho appena acquistato Eh figo Fede lo voglio Veramente bello Eh stanno In questi due o tre giorni Ho preso un pochino di roba Ho preso anche Rocket League Eh Quando fu mi ricordi Dark Father Dark Father Mamma mia No Non è Dark Father Così è un pochino Strana la cosa Dark Vader Vader No sarebbe Effettivamente sarebbe Eh Dart Vader Sì no ma Tu qua Tutti dicono Cose strane Allora in americano Dark Dark Vader Poi Dark Father Tutte le cose a caso E voi cosa giocate No di solito Certo Io ho un po' tutto Quello che mi passa davanti Accetto Ah io ho Viper Mi sono trovato Ecco Decla È Darth Fener 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 Cos'è Dark Vader Scusatemi Devo andare un po' A fare un po' Di Dark Vader Devo andare al vado Lol Ed è Vabbè 35 secondi Dove vai Per Chi sa come avere un serpente in casa Un amico Un amico Ce l'ha Sì ho capito Anch'io da piccolo ce ne avevo uno Però Era È morto Era un Boak Strictor Imperator Mio dio Sì Bello grandicello quindi Sì Però Cos'è Quasi tre metri di Serpente Più o meno C'è un Corvo sulla mia finestra Che mi sta guardando Ma lol Ma quanto è bello Quasi se lo adotto lo chiamo Gino Gino Il pisellino Il pisellino No è volato via Gino Cazzo È troppo bello Quando ti manca per l'affiliazione Pochissimo immagino Dai Sono a Sono a Sono a Due punto Sono a Due punto Due Più o meno Dai Stupida pistoletta Io odio round Con le pistole Perché non so usarle Sì ma davvero Fan cagare le pistole Manca un solo nemico Io so dov'è E qua Ucciso Io non so ricaricare E scacci con la R La R No no lo so Lo so ma spesso io sono convinta Adesso lo ammazzo Sì Faccio un colpo Ricarica Sì a volte mi diventico Anch'io di ricaricare Invece a me L'affiliazione ce l'ho già Però devo Trovar la voglia Di leggere tutti i moduli E quant'altro E beh Ma che scansa Fatiche Eh lo so Fatiche adesso Proprio no Perché Tutto ve lo sto facendo Inchiata Pure la scuola Unico avvistato Muro alzato Unico avvistato Uno Sono tutti da voi Io sono in B da sola Ah no Uno è qua sopra In B Due No dove cazzo Ma va a farti E ma ancora Paglio tasto ragazzi Mi tiro via l'arma C'è Viper su da me Ce n'è ancora uno qua da me Non so dove Allora vuoi salire O cosa Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Mastardo E qui E qui E qui E qui E qui Ma in realtà è da me È proprio in sito Ma va a farti Manca un solo nemico A posto è Pensate la spike Dieci secondi rimasti Raga Raga Che fossero loro Che fossero loro No Fossero loro E beh Mi son distratta No no Non ce l'avevo io Dicola guarda che ti seguo te va Prendiamoci il vantaggio Yeah andiamo tutti insieme a morire Nooo Johnny è morto Johnny Nooo Johnny chi? Johnny Depp Ho fatto un headshot Da paura Però non è morto La mia ultima è pronta Nemico a terra Due Cosa c'è? O meno due Ah Ok Chissà da cacchio Eh sì Doviamo prendere la spike E piazzarla Tu fai la Sta piazzando la spike Ma no Ce l'ha la tipa Spike piazzata Non mettetevi in mezzo Scusate ho scoricciato Nuvola pestilenziale Tanto non ce la fanno Desattivarla Ahia Prima che avete perso l'arma Ma sì Ma mi interessa L'importante è che le ho uccise Vento Mostrami dove andare Anche se succede così L'importante non è morire L'importante è Fa rispondere la bomba Prendo io la spike stavolta Voi copritemi però Qua è la che la metto su eh Come una cosa sola Perché arriva il copia il strike Qua è esplosito Sono riuscito Abbiamo usato la ultima Due Due Guarda che ti ho sentito Devo andare a piazzarla in A Devo andare a piazzarla in A Vero? Manca un solo nemico Tre Per me è uguale L'importante è che la piazzi Tanto gli sto facendo fuori tutti io Ah è qua da me Non ho uno Posso? Vai 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 piazza tranquillamente Ok piazzo Tanto adesso muore O muore o comunque non ha vita breve Lunga Ah sono morta ma comunque Oh vi temne Finchia veramente raga Uno contro te È vero? Oh la bozziglia Forse Ciao Kairos Benvenuti in live Buongiorno signore Benvenuto Buongiorno Non so che Questo nuovo App Z of you Divider Questo è un fucile E quelli sono i nemici Questo fucile è sui nemici Capito? Ok copritemi Continuate a coprirmi Vado a ripiazzarla Sono appena ritornato dal lavoro Grande grande Io oggi sono di riposo Grazie Grazie Comunque sta andando la live Bene bene Sta andando bene la live Aia Che cacchio Ma c'è tutta la ulti Non mi servono le palline Se io riesco Eh ce ne ho ancora tre Planta planta Metti la bomba Posso mettere qui? Sì sì vai vai Ah pensavo Pensavo Madonna Stavo confondendo Pensavo Che tra le altre parti A farti Beccherò prima o poi C'è uno lì Uno qua Uno qua la finestra Lo so lo so Lo so Da dai Cribbio Che sfiga Eh ma davvero GG Ma GG davvero Pronto Siamo guerriere Siamo fieri Siamo fieri Chi è che c'è la spike? La mia ultima è pronta Oh my god Come fai a avere già 11 kg Scusa Io Eh beh Eh basta C'è Ehm va bene Dammi la strada Sorry Una mi accerca E una mi mette Un muro davanti No Sto muro davanti Il prossimo Uno che ti accerca L'altro che ti mette il muro Ciao Hai Devevi andare a piazzare tranquillamente Eh sì ciao Io non ce l'ho la spike stavolta Perfetto Ah boh Ah boh Tony tutto bene? Cosa hai detto burro? Ok dude We are coming Andiamo in là Ah ok I'm coming Going 8 Insieme Ormai siamo arrivati tardi Aspetta aspetta Fermati Sì sono fermato Sono fermato Ecco l'ora Andiamo Come hai fatto? E beh Immaginavo Ogni volta Arriviamo qui Madonna Io so qua che l'ho accettato Lo riporto Se non lo smette Ho fatto le palle Hai mai mai lasciato la spike Preparatevi all'apocalisse Ok Vai 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 Piazza sta bomba Che comunque ce la piace Ce l'ho io Sì sì tutto bene Buono buono Manca un solo nemico Grazie Mi sono presa un colpo Meno male che il fuoco mico Non c'è Meno male che non c'è il fuoco mico Sennò mi avresti trivellato Cazzo che bug Ancola lì Easy Sono già 16 kill Cavolo fai Sono già 4 morti E dai Vabbè dai Io forse dai Ho fatto il record Sono a 3 Allora ragazzi Fermi tutti qua Aspettiamo quello lì Esca Ma i comandi Ho trovato un unico Sono osso Sì verrà mandata una mail E vedrai la notifica Qui su Twitch Ah ok Scusami scusami Avellino Non t'avevo letto Aspetta eh ma Riguardando il drop Ci sarà un segnale Quando viene qualcuno Sì praticamente Ti arriva la mail Ti arriva una mail Sull'account di Twitch E ti E ti E ti arriva la notifica Del Dove c'è la campanellina Di Sull'account di Twitch Tutti qui Tutti qui Tutti qui Tutti qui Tutti qui In maniera assurda Andiamo a pezzare la bomba Vedrai 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 Perché non ce l'ho io la bomba Ce l'hai tu eh Ce l'ho io ce l'ho io Eh sì ok Accompagnami Devo accompagnarti Non fare cose sconce però eh Oh e dai Ok aspetta aspetta Manca un solo nemico Io non le posso mancare Ah Ah così proprio Grande Però lì non ci ho provato neanche a evitare Su Twitch a me non ha dato la notifica Mi è arrivato solo a mail Il primo tentativo è viene due ore Consecutive di live guidare Guardata Successivamente la possibilità di droppare Vino ogni ora Giusto Giusto mago E tagliato Ah sì Vai Eh basta Accecarmi Mannaccia lui Io non ti ho accecato Io ho buttato la Quest'altro Quest'altro Ma no è Unccello Unccello Uno Uno Brutto uccello Traditore Davvero Io sei sento qua Eh che bravissima Eccolo Dove? Ok Tanto ormai la bomba non la possono più disarinescare Troppo tardi Manca uno Brighiamo sì Ucciso Grande Vedi 700 passore successe e ripagano Ah beh direi E' uno spasso No mi era lontato a me No scusami E' quell'altro mi ha cieca Vabbè però L'avete con me in sta partita Tanto conosco i nemici Ora cercheranno di prendersi da dietro Ma dai Ma dai Quanti cazzo di colpi Devo buttarli Facendo login sul sito di Valorant E collegandosi con l'account alla Riot C'è un bottone Posto scritto Control il tuo stato Che ti dice se sei dentro L'abito o no Giusto mago Ok quello il suo mondo E' anche il mio Quindi Occhio alla nuvola Ucciso Occhio alla nuvola Vabbè Sopra Ma ce l'ho anch'io Questa abilità Poverino Aia Ma C'è che mi ha ucciso Basta scherzare Ora muori Ciao Mi ho avvistato Ok Stai attento Deve essere lì Occhio perché è lì Aspetta dove che sei qua Occhio alla vita Occhio alla vita Prande No 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 Ah Kaboom E vai lì Fran the Gamer Grazie per l'host Cos'è cambio 0098 Cosa si è bugato Ragazzi si è bugato il gioco Ma lol 0098 Guarda lì 0098 0098 Prendo io la C'ho io la spike stavolta Perché ti prende in giro Perché non so Mirare Non so Prima non mirare Mirare Poi mirare Ma non devi mirare Vedi lui dice che non devo mirare Vuoi un segreto Se miri Sprechi solo tempo Usa la croce che c'è in mezzo lo schermo Per sparare E se sei ferma Spari molto più preciso Occhio lancio Lancio dal lento Sono sopra qua Qua la finestra Occhio Tribla? L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista L'ho vista che non ho mirato Dov'è che è? Qualcuno che ha mollato la spike da qualche parte Cosa? Cosa sta succedendo? Grazie per avermi acceccato comunque Ma è quell'altro Sì è il signorino Manca un solo nemico E va bene Facciamo così Ho fatto 5 kill Ho fatto 5 Dclap Sei un grande Spendete quei crediti prima di perderli Ok ce l'ho io Sì può curare solo una volta E dopo hai la super E hai la super che puoi risuscitare Sì spiegava il mio compagno No Una volta Una volta Se uccidi Ma forza Se uccidi Puoi curare di nuovo Mi curi per favore Mi curi per favore Grazie Grazie a no Mi cureresti per favore Aspetta 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 Affarti Ciao pittone Benvenuto in live Scusami Dclan Scusami Dclan Non avevo capito cosa intendevi Ah ok L'ultimo giocatore Mi tirà dietro No no Stanno Stanno facendo l'op oggi Dov'era scuso Comunque quando vuoi addami Così ci facciamo qualche game Va bene Tranquillo Tranquillo Cambio posizione Appena scopro come fare Da aggiungere però Oh merda Domani 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 Faccio Dalle Dalle 3 Fino alle 5 e mezza E dopo la sera Gira da mezzanotte circa Fino alle 3 e mezza Forse alle 4 Non lo so Dai ragazzi Mancano pochi giorni Dopo Tolgono il drop Quindi Meglio se ne approfittate adesso Ragazzi per droppare Cerda Non l'ho ucciso Uno Eh non sono bravo No ma Le pistoline Fan cagare Queste pistoline Del cavolo Fan veramente Cagare Ma che è che la spike Opposita Da dietro Da dietro Dovete andare verso la spike Tutta dall'altra parte Eh si Quando trovate la bomba Anche su counter strike Mai andarsene via dalla bomba Sempre girarle intorno Difenderla Hai giocato a counter strike Vabbè 30 secondi rimasti Sì vabbè Io ho fatto Io ci ho fatto forse 4 ore in globale A counter strike Stanno plantando Manca un solo nemico Vai Ho 30 kill Madonna Ma qua stiamo aumentando sempre di più Ragazzi Ragazzi Arrivrò Un totale di Non so 500 uccisioni Una partita perfetta Sarebbe Ogni Allora 26 No sarebbe Praticamente 25 per 5 Quanto fa Sono 100 100 105 uccisioni Non è no 105 uccisioni 105 uccisioni Sarebbe una partita perfetta Non male L'ho vista L'ho vista L'ho vista È davanti a me Ok La spike è qua Ma che cazzo E vabbè Ascoltà Sono in due qua Non riesco da solo Ok Stanno andando verso A Sono andato da te Attento Sì Lo so Mi sta già plantando Spike piazzata Manca un solo nemico Prende E' Sul sito Ha già messo la bomba In A Ah è là L'ho vista Isattivo Ucciso 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 Tranquilli Non l'hai ucciso Eh Gli sono postata da dietro L'ho preso Grande ragazzi Grande ragazzi Proseguiamo sulla nostra strada È la cosa giusta Ecco perché siamo una squadra Per fare schifo Sì Beh Vabbè Non è che le ha già dato schifo Sta vincendo Ce ne mancano due 30 kill è quello che hai chiamato con me Che fa lo streaming No Come si chiama È Graziano che fa lo streaming Io sto solo giocando tranquillamente No no per adesso sono un po' stanco Perché esattamente Mi chiedo perché sto qua Usare abilità Ok una spike è lì e sto arrivando Ah vai Che dovrebbe essere qua da noi Ah no è lì ok Vittoria bella Match point Ancora vittoria e andiamo a festeggiare Dai 12 a 3 non male Mi serve qualcosa Cosa che ti serve Vuole un vandal Il vandal si Vandal vendo io No non posso non posso vendere Non ce l'ho Wow grazie Morirò subito ma grazie Vabbè non c'è problema tanto Dai non Non degradarti così Su Ok la spike è lì Andiamo verso la spike Dai dietro di me Attenti Bravissimo Ok vai molto lentamente adesso Ok sta prendendo la bomba Seguila ma molto lentamente Non andare di fretta Piano piano No 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 vai in sito del lab Ok è qua Eccola lì Affatti Dove vi ricaricare Ale Bravissimo Vittoria dei difensori Ora ripariamo Cavolo Dovevo per forza ricaricare adesso Adesso proprio Vaffanculo Non male che anche lei doveva ricaricare Davvero Decola 30 30 Maria Eh Eh Da un po' che gioco a CS Anche lì sono bravo Però lì è pieno di hack Madaglia Eh buona ragazzo Mago tutto a posto Tony Oh ragazzi non vi sento più Scrivete in chat Dai Salute Eccomi Eccolo Ecco Ecco Io ci sto Allora 7 Cairo 7 Vediamo se posso capire come aggiungere qualcuno Sì questo non è il mio disc Eh no Dovresti andare Aprire l'all E farlo da lì Quindi aspetta faccio io Ah lol Ehm Come ti chiami Kaa Cpc Io me ne occupo io Fai tu Perché io non posso Perché sto anche streammando E mi si bloccerebbe tutto ragazzi Ci sono Sto facendo delle cose urgenti Tranquillo Decla Come mai Non mi si apre lol Aspetta Aspetta non partire Non partire Fermati Ah non c'è lui Ok 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 Kairos Sei ancora In stream Sei ancora Dentro nella live Ti stiamo aggiungendo eh Se vuole farsi una partita Ma tanto c'è posto per 5 persone ragazzi Se vuole unirsi Si è libero di unirsi Aspettiamo un attimo Come l'hai fatta questa estensione qua Figa figa Cosa? L'estensione delle Delle Come si chiamano Le cose che rimbalzano L'estensione E vai su Devi andare sul sito Di streamlabs C'è l'opzione Widget E ti trovi Il menu Che non mi ricordo Va bene Aspetta Aspetta Te lo dico subito Tanto che aspettiamo Magari Kairos Che arriva Ma voi sapete a cosa servono i Raio e ValoraDepoint? Sono come i RP Ma quelli con la R Non quelli che hanno la V Non so Non saprei Comunque Declam Vai su Streamlabs Il sito di Streamlabs Fai tutti i widget Sotto c'è scritto Emote wall Ah ok Tu attivi Letmote wall Te lo imposti E tutto il resto Dovrebbe dartelo senza grossi problemi E uno semplice da giocare? Raga non sta dicendo niente In chat io direi di startare Così almeno non Sì infatti Sappiamo sappiamo In caso Quando Se ritorna in chat Lo aggiungiamo Sì sì appunto No perché Se no Non mi va di stare qua Ad aspettare L'eterno Ricordo che Se seguite la pagina Facebook del network Potete sapere in anticipo Quando scrivete in live Quindi entrare subito In live E anche Grande 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 mago Sotto Tanto che parte Guardo una piccola cosuccia Pubblicità progresso Cosa ho letto Una pubblicità del progresso Cos'è a caso Va bene Che gioco? Ah e quindi abbiamo Your death my weight in chat Ti ho beccato No me l'hanno già selezionata Così ne gioco un altro almeno Cioè provo Vabbè voglio provare Proviamo questo Sono me Non l'ho mai usato Dico Questo non l'ho mai usato No neanche io Quindi non prendetevela con me Se sono un abbo Ormai è andata avanti con Cicaria Decla Vabbè Decla Tu sei uno che deve solo cariare Ma mi sei Ma mi sono accusato Sembra mio nono ai tempi d'oro Oddio Oddio Nemico avvistato Ok questo è un segno Questi qua non sono deboli Già Ok va bene Questi non sono deboli come quelli di prima Ma io mi ho avverto Chi si vede Fai Qui C'è Riz davanti a me Aaaaa Nemico avvistato Nemico ucciso Raga 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 Sono dietro di me Qui Dove sei dove sei Sono sopra loro Ma dai Manca un solo nemico Ok l'ho sentito L'ho sentito L'ho sentito Dalla nostra base Dalla nostra base Ho pochissima vita Aaaaa Ma non tu Decla Il PG di Scree Capito Capito Ah Ok Che sembrava Che sembrava Suonano i tempi d'oro Oddio Ah vabbè ok Perché no Perché è Ricarico No Beh Oh tra un po' c'è già la ulti pronta Io cos'è Ma come Eh io ne ho già tre Ho già tre punti io Ma come Vado a piangere Lottiamo Cavolo mago Sette ore è passato da me Aspettate Energetico a terra Eccolo qua Spottato Vai 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 A mettere il muro così però Dai Tony Tu l'hai droppato in un giorno e 15 ore Non male Non male Dovevo fare cusco Qui Lascia 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 Non mi devi mettere i muri però Dai Tutti lì sopra Occhio Scappa via C'è la bomba Scappa via Ah ma non sei tu quello che metti i muri No non sono io E quell'altro mi continua a mettere i muri davanti E cavolo il flame E cavolo il flame Continua a mettere i cazzo di muri davanti E non scappa a passare No io ero Io ero solo il vecchietto io 30 secondi rimasti Ultimo giocatore rimasti Eh vabbè Ah questo è perso dai No è perso Ma va per una sola No no Questo round Questo round intendo Non è cariche Il prossimo round Vuol dire che io non andrò Con loro Cioè nel senso Non andrò con sti due Che mi continuano a ceccare E lo metteremo davanti Ma davvero Io è vero Posso giocare bene quanto vuoi Ma se pure il mio team Viene contro di me Non ci riesco Fa bene tutto Allora Decla Io vengo con te La bomba è dall'altra parte La bomba è da sola Tutto normale Tutto normale Normale amministrazione Prendiamoci tutto Zana aspetta Aspetta Sì sì E pure il drone Ha cercato ovviamente Perché un drone È uguale a un essere umano A quanto pare Ok Vabbè San culo Ho sbagliato io Qui Q Oh c'ho C'ho un cecchino Ci ho fatto un fottio di danno Ma non è morto Vai Bravo C'è un altro lì vicino No l'avevo visto Mi ha sparato la nuvola in faccia Ma che cosa Mamma mia Scusatemi Tranquilla Tranquilla 30 secondi rimasti Ma se stai intanto facendo il giro del panorama Tanto Non è Tranquilla La partita dura solo ancora 20 secondi È tutto il tempo che vuoi Guarda Cappuccio Brioche Cappuccio Brioche Se vuoi ti do anche una tazza di cesso 10 secondi rimasti E va bene Fa il mio ragazzo un round Va bene Sì si va Vi conviene stare Ciao 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 Il varroa map tour Conscrivi prossimamente LOL Dai mago Droppalo anche tu Cambio vino anche te qua Senza cariche Ah sono senza cariche Oh E adesso Io sono il cacciatore Niente davvero E mi hanno messo il muro davanti Poi uno non dovrebbe bestemmiare No Dovrebbe essere Tanto bravo e carino Però A un certo punto Possiamo sclerare anche Magari Dietro di noi Dietro di noi No attento a te Sì sì Gira il ti dietro di te Manca un solo nemico Dato Carneficina di squadra Carneficina di squadra Cosa significa? Ma guarda squadra Eravamo in due a killare Praticamente Oh Va bene Ho fatto un round Non mi è servito neanche usare un'abilità Non mi è servito neanche usare un'abilità Oink Dove sta andando la mia freccia Va bene È andata a Cuba Occhio ragazzi Perché è di là Mi sa Mi sa che sono di là Uno ne ho visto qua Aspetta Aspetta Questi Aspetta Aspetta Diverso E' qua E' qua Che napoli ci hai messo così tanto a spararmi Ok va bene Aviamo piazzata noi? Sì sì Vabbè dai Vieni qua No 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 Brutto Trovati Nemico avvistato Manca un solo nemico Carneficina di squadra Tra l'altro Volevo Volevo Rallentarlo Col dardo Stordente E gli ho lanciato il dardo Per rilevare i nemici Proprio in mezzo al muso Come dire Dove sei? Ero lì Le ho messi mezzo agli occhi E' come usare L'arco come clava Davvero Inutile Forza Ero l'arco come clava Ero l'arco come clava Ero l'arco come clava Ops Giuro Giuro non me l'aspettavo Che mi avesse lanciato la bomba Ma non è morto Questa è la cosa Ma com'è Il phantom com'è Carino Cerro io la spagna Ok si è abbastanza preciso Vediamo È assurdo Che non è Votiamoli giù io ci ho impiegato quattro giorni tabellino io ci ho impiegato quattro giorni per il drop ma va a farti pensavo che mi venisse 145 questo qua pensavo che mi venisse da dove mi stava sparando c'è 10 hp1 ed è lì dove è il nostro alleato ok ha fatto casino è morto va bene scrivi ma come faccio a trovare il link della mia whitelist di instagaming devi andare su instagaming collegarti al tuo account e dopo vai su il mio profilo pubblico scrivi a proposito dimmi ieri non so se c'è ancora ma c'era uno sconto strafigo di alien isolation se ti interessava che invece di costare tipo 20 costava un euro ieri dopo magari guardo devo guardare su ancora qualcosa si si ma giusto un euro te lo prendi normalmente un attimo ok boh sono qua eh continuo a fargli troppo di danno ma non riuscire a ucciderlo sto qua che fa stai non senti alla sua maia non lo spai non lo spai che morirò subito non lo spai che morirò subito non lo spai che morirò subito volevo fare lo... gli ho fatto lo super ma... ho perso troppo tempo cavolo non lo spai arriva? dove arriva? va dietro ah no è il nostro alleato ovviamente casmista lui non sa cammine normalmente lui deve stompare i piedi attenzione è come dire è come dire scusate sto arrivando pam 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 no da sola si mette le scarpe in cemento per camminare no? 30 secondi rimasti eh scappa non lo so oh no non lo so non so neanche io guarda fa qualunque cosa ma non morire ho sedici secondi ho sedici secondi dieci adesso non fermarti prendi in mano il mitraglione però ok piazza velocemente piazza velocemente no si ok va bene va bene va bene no cavolo ma come scopi? madonna voglio provare i cecchini dai questa partita ho fatto veramente cagare ma perchè sto campione mi fa veramente schifo non mi piacciono ma io l'arciere lo uso molto volentieri eh è questo qui che non riesco a utilizzare quello che sto usando adesso tipo se mi metto qua in teoria dove c'è questo negozietto io sono il cacciatore madonna santissimo no niente cazzo ho spiegato tipo 4 gold vabbè brucia memico avvistato maria oh eccolo la sopra c'è uno sotto e uno sopra uno sotto e uno sopra forse usa la x ah dai ero circondato ragazzi due che arrivano da dietro e uno davanti ma adesso sappiamo che non lo giocherò mai più no effettivamente questo personaggio che sto usando io fa veramente schifo è morta male e fucilata da un plotone ma davvero dobbiamo riprenderci go b go b go b perché usano le skill a cazzo di cane ma non le usare piuttosto ma perché eh eh vabbè veramente chi è che mi ha messo il muro è la signorina lì davanti te l'ho detto se l'ana mi ha ucciso è davanti a te giù la testa ultimo giocatore me stia pareva cazzo mi mette pure il muro eh ma te l'ho detto si può lanciare le magie a cazzo di cane piuttosto veramente a non usarle per prima è interessante sta cosa prendo io la spike di quella dove che vai di qua si guoteva perché sennò mi ammazzano subito chi non strelleati a quanto pare si aspetta aspetta state qua che questi qua appaiono subito uno controlla dietro uno controlla dietro uno dentro con la porta e io lo controllano avanti tanto sicuramente verranno di qua e quell'altro fa rumore è arrivato basta scherzare ora muori se qualcuno viene qua sotto ma dai come cazzo ha fatto bersaglio abbattuto ma non ci credo ultimo giocatore rimasto ma porca puttana manca un solo nemico oh ciao pistoletta signori con tutte le armi che c'ha per terra usa la pistoletta lui ecco mamma mia no no grazie locherino per il follo benvenuto in live spendete se la prendo io vado a morire ho preso il cicchino ce l'ho no beh dai scusatemi davvero ci ho provato con questo personaggio a vederlo no ma non è male anche il mio mi fa ranger schifo aspetta 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 energetico qui ecco tipo quella roba lì cura io sono il cacciatore ho ucciso uno con la ulti questa è la ulti è l'unica cosa che c'è sto qua vai 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 sta giù vai 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 pusha 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 arriva energetico a terra piazza la bomba eh mi fai piazzata mi fai piazzata davanti a me umogeno pronto il colpo gli è arrivato in pieno petto non è morto va bene ma dai ero qua in due erano qua in due cambio posizioni c'è il tappompa e andiamo ciao davide tutto bene tu buongiorno ma siamo noi tre e basta eh sì a quanto pare ottimo ottimo ahia mi sono spaccato le gambe una bellezza che è successo davide è ora di fare sul serio nemici avvistati solo due da me bravissima bravissima spanderc spanderc vabbè la bella spike si ho visto in effetti ma non ho capito effettivamente cosa sia successo anche perché mi sono svegliato le due oh porca potana c'è Reiz sul balcone vaffanculo penso avrei vera distrutta e oh cosa e va bene umano o no quell'omen può morire l'omen di Randwin si ma calcola che noi siamo in trene che bello già dalla beta questa community si distingue sempre mi raccomando ma davvero ah che feeder occhi sempre aperti eccoli ok eh dai no ma più che altro quanti colpi devo sparargli sì ho buttato via un caricatore contro uno non è neanche morto ultima pronta pago livello 16 grande grande pare che ho messo i ranghi a proposito dei livelli ah e che cosa cambia tra un rang e l'altro ah no niente niente di particolare si distingue adesso appena ho appena ho la partnership eeeh no appena ho l'affiliazione metterò qualcosa di carino da riscattare sono tutti in a sono tutti in a no scherzavo sono qui io sono il cacciatore sei morto eh mi ha bruciato uno ma dai ma che cazzo ora sono un guerriero vado a prendere una luna più 9 e spacco tutto bravo la mia uretra non è mai piena ho capito male o il mio personaggio ha detto la mia uretra non è più piena non ho capito probabile non ho capito è fantastica guarda basta non morire energetico ehi perderemo come guerrieri veri scusa roja spike piazzata ma come spike piazzata ma dai hanno già piazzato la spike ma si tanto nemico a terra uno nooo ultimo giocatore rimasto che bello io contro tu io contro il mondo praticamente uno contro tre confidiamo in te c'è c'era di là sopra vabbè ormai esclose però bravo bravo vittorie degli attaccati ci abbiamo provato ragazzi ci abbiamo provato eravamo in tre dai eravamo in tre eh sì in tutto ciò si tre contro cinque eh vabbè buono acquista armi giornaliero andato anche quello voi giocate a Valorant vero non a League of Legends no anche a League of Legends 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 ma quando sarà finito il drop dovrò se non avrò aspettare fino all'estate eh sì purtroppo Bellino dovrebbe uscire a luglio-agosto il gioco luglio-agosto dovrebbe uscire il gioco sarà ovviamente un free to play quindi lo quindi ovviamente lo troverai gratuito non dovrai pagare niente quindi di fidel a chi ti vuol vendere le K nel caso ma non è fatto una League of Legends vero? eh no adesso come adesso no perché sto cercando sto ho abilitato i drop no 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 perché io devo uscire per quello che devo scusa aaaaa au dovevi avvertire prima però no 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 ne fa una il mio compagno allora se non ti dà fastidio no no va bene va bene io adesso l'ho staccato quindi fate fatele voi due vabbè proprio tu declaresti sempre in chiamata sì sì resta adesso vabbè ah ok ok eccomi qua ecco di qua volevo usare jet ma niente ah mi guardi se no vi piace questo gioco bello sì sì bello bello mi piacciono io giocavo giocavo ad Halo A3 quando c'erano i grandi tempi Halo 2 Halo 3 io Halo non l'ho mai giocato devo dir la verità mi vergogno dirlo sono momentaneamente Aui From Keyboard è AFK ah ok ok tranquillo mago chiamalo AFK ti prego ah ok bisogna di selezionare c'è qualcuno che non ha selezionato il personaggio ragazzi ma come è andato AFK no no non mago non mago è uno dei nostri cinque negli nostri quattro partecipanti non ha selezionato il personaggio ed è tornato alla selezione ah wow cavoli costo c'è il pc più veloce del mio ma è selezionato jet prima di me ok c'è un buon quad core ssd da perduto sia per windows sia per giochi no io mi sto trovando abbastanza bene con saj 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 vediamo che è saj saj è quella è quella che lancia il muro le sfere rallentanti ah la curatrice di der oh c'è qui il timer che si è bloccato praticamente 75 è rimasto io vedo 4 3 2 1 infatti non hai selezionato nessuno si è buggato mi sa il drop dovrebbe finire il non hai selezionato un agente si è stato rimosso dalla coda anche te sei del 87 si eh anch'io bene bene coetanei il drop bellino dovrebbe terminare la prima settimana di maggio non lo so sinceramente per come per come so testata nucleare wow la testa dura la mia mi son preso mi son preso un piccolo strappo alla spalla ok vediamo se selezionano il personaggio o meno ok l'hanno selezionati però il timer si è bloccato è partita da me ah ok 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 sta partendo ok ah così come uscì la pompa ricarico il destro si il destro ti spara tre colpi alla volta ricarico ci sono io buon per te direi scudo leggero allora sei tornato decla si si ci sono ci sono adesso allora vediamo un po' vediamo un po' che Invece di spostarmi ho scacciato la Q Marco cane Adesso mi vado a fare delle solo due Scusatemi ragazzi che sto leggendo una piccola cosa eh Ok arrivo Scusatemi per l'attesa Guardare una piccola cosa Guardare una piccola cosa Raga Vado un attimo sotto e salto tra gli altri va Va bene Va bene torno tra un po' Ok A dopo A dopo Ciao Manu Tutto bene tutto bene Salviamoci l'arma Mi sono salvato l'arma scusa Che ci provino pure Perché se no non avevo più i soldi per acquistare tutto il restante dell'armamento eh Ah ho sbagliato io E' tempo di saltare in aria E' tempo di saltare in aria Nemico avvistato Ma dai Rilassati un po' gespannt Suli E' tempo Desire Esatto Che esatto A Super grande ultimo giocatore rimasto 30 secondi rimasti per salsa per salsa non far cagate si dovrebbe correre tipo AB non si accorta di niente no ma davvero arrivare qui è impassibile ad aspettare chissà cosa dopo l'ultimo drop penso tra 7 minuti vado va bene vabbè dai in fondo abbiamo anche vinto infatti perché con l'altro avrà ucciso tutti ma non c'aveva la spike vabbè in effetti ma va a capirli guarda cioè io sono un hub al gioco quello lo ammetto però almeno cerco di impegnarmi cerco di fare qualcosa queste qui proprio o se ne vanno in AFK guardate stanno lì imbambolati non si sa neanche cosa stanno guardando basta scherzare ora muori è andato verso B di sicuro sicuramente attenti mi sconda questa porta qua mi ammazzano guarda spike piazzata che cazzo in me è inna è inna nemico avvistato il mio capolavoro nemico avvistato manca un solo nemico ultimo giocatore rimasto grande non morirò qui merda 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 su 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 vai appelo 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 mancava un secondo Avverto la tensione Allontanala tu Omen Allora Protezziamo la nostra terra Barriera creata Nemico avvistato Nemi dino non va a mettere salti Adesso mi sono accorto Colpo a segno Cioè se chi è più destra mette Il lacuno non va Nemico avvistato Non l'ho mai contattato Ultima pronta Manca un solo nemico Eliminato Vabbè la spike tanto ce l'hanno qua Eccolo là Dai 30 secondi rimasti Occhio ragazzi Se avete una cattiva mira Niente paura Ci sono altri modi per essere utili Ciò vuol dire morire Facciamo un po' di casino Non c'entra Non c'entra Nemico avvistato è morto Che cosa? C'è bugato I segnali Attenzione controllo Vabbè C'è come cazzo ha fatto a sparire e tornare dentro? No scusatemi come ha fatto? Non direi che abbiamo degli hacker che giocano No ultra non è magia Solamente Solamente alcuni Solamente un tipo di Un tipo di personaggio Solamente il mago Quello che lancia le sfere viola Potrebbe trasportarsi Nemico avvistato Nemico avvistato Nemico avvistato Nemico avvistato Ciao Dai Spike piazzata E' già stato Si l'ha droppato zero talento L'ha droppato zero talento ieri sera Rivelo l'area Allora Disattivi Senza cariche Basta spammare Basta spammare Senza cariche Senza cariche Basta Mi riprenderò Ciò che è mio Oh my god Oh my god La saliera Ok Ok Ciao bellino Grazie per essere venuto Decra al 22 Decra al 22 E Ultra Al 35 Infatti mi hai fatto Mio uno spavento Manca un solo nemico Quanti da Mio uno spavento Per vita Avverto la tensione Allontanala tu Omen Siamo sempre in salto E' un doge E' un salto Com questa personaggio Che Ma ci si abbassa Ma io ho messo Passa sul mouse Adesso Mi viene a due cazzo e va boh ho i soldi, risparmio sto risparmiando ma col cartelli si corre più veloce ah mago ottoore complimenti è tempo di saltare in aria e le mie mani tremendo muro alzato un parco cane questa mira allenati di più basta scherzare ora muori ma dai ultimo giocatore rimasto quanti cazzo di colpi devo sparargli ma proiettili vanno dove vogliono due in pieno va bene va bene cazzo ha fatto shot di due insieme non ci credo grande disattivala vai vai come dici drone sei pronto a spiegare le ali adesso però prendo la provo a prendere la guardian non ma ma non 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 Barriera creata Spike avvistata Nenico avvistato Killing bit Fortuna Nenico avvistato Manca un solo nemico Grave errore 30 secondi rimasto Ma dai Cosa è spuntato quando l'hai girato Ma davvero eh No Cambio posizioni Che era una faccenda seria E' uno spasso No Va bene Adesso vado C'ero io la Spike No Ce l'ho io ce l'ho io Va bene Allora Black Cos'è che mi racconti di bello Non ci prenderete Cosa è tutta vita Casa lavoro e live Grande Ma vai Ma vai Che cavolo ha fatto A prendermi dietro il muro Manca un solo nemico Spai 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 Spiazzata mi mancava un giusto un ultimo colpo che per per ucciderlo ultimo giocatore rimasto momento decisivo grande 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 stava correndo a disattivarla eh e la spike è ancora nella base mettiamoli sotto oh vado io allora ma dai cazzo ma c'è entrato in pieno eh non muore più ciao sabri benvenuti in live non ci crederai ma sono qui da un'ora e tu non scrivi allontanati dalla bomba grande corri 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 salva l'arma salva l'arma l'evoluzione l'ho messo da parte il chill grande vediamo vediamo cani l'arma è troppo precisa da qua a distanza ragazzi ho un colpo solo ah dai ultimo giocatore rimasto non ci provare come vanno le partite bene bene caro stavamo aspettando prima sei sparito ci stavamo invitando ma sei sparito dalla chat prendo questo qua stavolta ah ma scusate ma non faccio ah basta allora no pensavo pensavo che volessi giocare per quello fuori dai piedi c'è nessuno facendo salire il main a lol ah capito capito ah dai ah dai eh ciao ti ho dato il nick così quando sono su valorant c'è spazio mi puoi invitare va bene tranquillo dove è che me li hai mandato vandal va prendo la vandal stavolta forza avanti così qui nemico avvistato ma cosa perfetto perfetto ok a dopo ciao ciao grazie per essere passato ma dai ultimo giocatore rimasto 30 secondi rimasti cazzo ne mancano tre di partita vinte ma davvero troppa erba pipa un po' troppa mi sa ci ha fatto ci ha fatto un'intossicazione yes mi guardia queen ma dai ultimo giocatore rimasto vabbè ho la spike eccoti qui toni problemi di connessione cavolo stranamente a me oggi non si sta dando problemi stranamente ultimamente in questi giorni ho sempre una barca di problemi di connessione aia davvero nemici vicini occhi aperti datemi qualcosa cosa vi offro adesso vediamo laceriamoli 917 guardate qua ho sentito a me a di tutto avvisato ma dai buono buono dai ancora due combattuta questa è combattuta comunque è combattuta questa basta scherzare ora muori ma dai manca un solo nemico dai state a proteggerla per la spike adesso vai dai uno alla vittoria match point mettiamoli a dormire si si la vinco ultra questa qui mi sta che è vinta e riesco a tirare giù almeno due adesso io sono il cacciatore portatori a terra hai combattuto bene la spike è a te ma dai OMG ho droppato non è vero ditelo che vi ho triggerati dai dai che droppate ragazzi mancano pure pochi giorni ormai non è vero non è vero tutto tutto Stai spiazzata. Ma dai? Fuori dai piedi! Non ho cariche! No! Merda! Ok, puoi andare a giocare allora. Per ricordartelo. Credevi che ti avessi sdorato. Mi spiace ma sono occupata con mago. Ciao RPG! Benvenuto in live. Per droppare è sufficiente che metti i colleghi il tuo account Twitch all'account dell'Ariot Game. E dopo di seguirli le live. Ma dai! Non è possibile guarda. Cioè fanno one shot. Figurati! Ricordo per l'informazione globale che qui da me già zero talento ieri sera la droppata. E vabbè! E vabbè! Sì! L'ha droppata da me! Ma come ha fatto? Non è possibile che esi fuori e ti fermi? La festa è finita! Mettiamoli alle porte! E quell'altro ti ha appena visto e non riesci a spararli. Già. A volte veramente non si capisce proprio come facciano certi a killare così. Ti vedono. Serve aiuto! Si ferma no? Ti spero non mi fermo. Ah madonna! Proprio personaggi doppi insomma. Ma dai! Basta scherzare! Ora muori! L'ultimo giocatore è rimasto. Perfetto! Eh vabbò ragazzi. Pareggio, pareggio, pareggio. E adesso prendo questo. E adesso prendo questo. Prendiamoci tutto. Prendiamoci tutto. Prendiamoci tutto. e vai finita vittoria degli attaccati grandi 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 si adesso mi sa che stacco anch'io che devo andare anche a cena esatto alla prossima va buono dai tanto da mezzanotte da mozzanotte dovrei riprendere a streammare tutto il resto devo andare a lavorare ah capito buon lavoro allora grazie stasera a mezzanotte riprendo se volete esserci ragazzi e finisce le drop ciao 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 che mi mangio stasera mi sa un buon risottino mi sa proprio un buon risottino niente ragazzi noi ci vediamo più tardi verso mezzanotte alle ore 22 ho la stream subnetwork dello stormo dei nerdraghi quindi non mancate mi raccomando e noi ci vediamo più tardi ciao ciao a tutti ragazzi grazie per avermi seguito ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.